... Abbiamo interrotto Mariano Bruno tra i treccioni di Calamaretti, ciao Mariano. Ciao, ciao, salve a tutti, buonasera. Come ti senti qui al Premio Malafemmina? Benissimo, ora sono arrivato, a parte il parcheggio, però tutto bene, vedo un bellissimo ambiente, una bella atmosfera, tantissimi artisti e come ho detto prima sono onorato di essere stato chiamato. Sei riuscito a mangiare qualcosa? No, ancora no, perché si esce per mangiare, non si entra. No, si entra e oggi ci sono una serie di portate, tutte meravigliose dello chef di danza. Il panorama come ti sembra? Che cosa ti ispira? Guarda, tu non ci crederai, ho visto una stella catena, di solito ho la stella catena, si esprime un desiderio, io ho spesso il desiderio di trovare posto. E allora noi non ti lasciamo alla cena, che sicuramente continua. Un saluto e in bocca al lupo per tutti. Ragazzi, un saluto a tutti, auguri e buona vita a tutti. Grazie. Grazie.